Le consultazioni elettorali, oltre ai risultati, mettono sempre in evidenza curiosità. Le europee, ma anche le amministrative, hanno messo in risalto notizie di grande curiosità che vanno oltre i risultati, le vittorie o le sconfitte dei vari partiti, di diversi candidati. Cirieco De Mita, 91 anni, è stato rieletto sindaco di Nusco, il suo paese natio. Dopo essere stato più volte ministro, segretario nazionale della democrazia cristiana, quando il partito era la vera balena bianca, poi presidente del Consiglio, torna sullo scranno di primo cittadino, lasciando nella polvere i suoi diretti avversari. Curiosità di casa nostra è il rieletto sindaco di Villanova di Albenga, che ha ricoperto incarichi in comune da 30 anni. Poi c'è il granitico Berlusconi, che superato da un po' gli 80, mette insieme più di 500 mila preferenze con una campagna elettorale durata una settimana. C'è anche chi è morto mentre andava al seggio, un semplice lettore, ma questo ha fatto poco notizia. Record dei record invece è stato registrato in Piemonte, dove nel Canavese a Ingria, 49 abitanti, il sindaco leghista, al suo terzo mandato, ha messo insieme 96,77% dei voti. Quanti record, quante facce non più nuove cambiano le idee, ma non i volti.